E siamo live, eccoci qua finalmente dopo una settimana di pausa, anche se con una puntata un po' così su, come si dice, su complotti e cospirazioni, settimana scorsa, una puntata un pochettino più generica, ricominciamo. Allora, ricominciamo, benvenuti su Di Pencrimini, io sono Palla e oggi inauguriamo il secondo caso di questa serie, come avete letto dal titolo parleremo dell'omicidio e del rapimento di Yara Gambirasio. Sono, sono, non vedo l'ora, eh, non vedo l'ora, sono gasato, voglia, 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 voglia. Bevo subito perché già ne scrivo la descrizione così c'avevo il fremitio, che non è una parola italiana probabilmente, comunque fremevo. E quindi, e quindi sono, sono contento di essere qua, mentre aspettiamo che più persone possibili si colleghino, volevo ringraziarvi per tutti gli ascolti che ci state, che state downloadando, che state facendo, sia live che chiaramente post, perché queste live, come sapete, sono poi riscaricabili su Apple Podcasts, Spreaker e Spotify, dove vi preghiamo in tutte e tre le piattaforme di lasciarci una recensione perché ci aiuta tantissimo. E se però state, state davvero ascoltando, state apprezzando e quindi vi ringraziamo davvero, siete, siete, siete fantastici. Oggi c'è già Zap collegato, oggi è suo compleanno, quindi facciamo gli auguri in chat e sui nostri canali social, Telegram, Twitter, forse anche Facebook abbiamo inaugurato, non lo so, non lo so, non lo so, non è vasto un po' indietro, è stata una settimana un po' complessa, comunque lo trovate tutto in descrizione. E niente, oggi parliamo di questo caso, vediamo se c'è qualcun altro in chat, sono le 7.05. Va bene, non c'è nessuno, quindi parlo da solo, no dai, adesso, due minuti, due minuti, anzi meno, un minuto, io come al solito, vai lo sapete, i primi tre minuti cazzeggio un po', e poi parto con, parto col caso vero e proprio, e oggi è un puntato ovviamente di introduzione, cerchiamo di capire qualcosa in più insieme del caso, e quindi facciamo una panoramica della vicenda, poi spiegherò il perché ho scelto questo caso, cosa ho intenzione di fare con questo, appunto, con questa storia e con le sue possibili ricostruzioni, no, perché c'è, è una sentenza passata in giudicato, Vabbè, dai, adesso, adesso partiamo. Vado a prendere la sentenza, perché chiaramente devo andare a prendere la sentenza, che ho qua davanti, sono 350 pagine, ovviamente immaginate quanto siano divertenti da leggere. Vediamo se... Scusate... Ok, ci siamo? Siamo carichi? Allora, la vicenda che vi voglio raccontare oggi è una vicenda che sicuramente avete sentito, avete sentito nominare, E' una vicenda tragica, è una vicenda molto, molto famosa, tristemente nota. E l'ho scelta perché è il caso forse più discusso del web, è il caso dove ci sono più documentari, c'è un documentario si chiama Ignoto 1 su Sky, ci sono anche qua milioni di pagine di materiale, e dove, secondo me, l'opinione pubblica è più spaccata a metà. Perché? Mentre nel caso di Meredith Kercher l'opinione pubblica è abbastanza concorde nel definire Raffaele Sollecita, Vanda Knox, colpevoli, nonostante io non sia d'accordo, La stragrande maggioranza del pubblico è convinto che Massimo Bossetti, Massimo Giuseppe Bossetti, che, ripetiamo, è in prigione, condannato all'ergastolo dopo tre gradi di giudizio, quindi sentenza definitiva, anche se si aveva aperto un piccolo spiraglio, ma che io sono convinto che non porterà nulla. Ma la stragrande maggioranza delle persone è convinto che sia innocente, e non hanno tutti i torti, almeno sulla carta, poi andremo chiaramente nel corso delle ore che passeremo insieme a capire il perché. Partiamo dalla vicenda. Quindi la nostra storia comincia ufficialmente il 26 novembre 2010. Siamo a Brembate. Brembate è un piccolo paesino vicino Bergamo. È abbastanza conosciuto, è un paesino, ripeto, non molto grande, mi sembra che abbia meno di 10.000 abitanti, 8.000 abitanti, quindi è vicino a Bergamo, in provincia di Bergamo. Confina con una serie di paesi che poi avranno una loro importanza in questa vicenda, che sono Mapello, Ponte San Pietro, Barzana, va bene, e altri luoghi. Siamo quindi il 26 novembre 2010 vicino a Bergamo, clima abbastanza rigido, ovviamente, e un tempo non bello. Sono le 13.15. Iara Gambirasio, con sua sorella Cheba e con un'amica, quindi il nome della Cheba e la sorella di Iara Gambirasio, escono da scuola, all'una e un quarto. Verso le due sono a casa e hanno pranzato. Dico, mangia dei piselli e mangia del pesce o del pollo, la mamma non si ricorda cosa ha mangiato. Nel pomeriggio fa uno spuntino, anche se anche su questa cosa non siamo molto sicuri, ma sembra che mangi uno snack, e fa i compiti dopo aver passato qualche momento di svago sul computer. Al computer, anzi. Alle... intorno alle 17, ritorna sua madre con... ritorna alla madre di Iara Gambirasio e di Cheba Gambirasio, che era fuori col fratello, e nasce una discussione, ma non nasce una discussione nervosa, semplicemente entrambe le ragazze vogliono andare alla palestra di Brembate, che è a 700 metri da casa, quindi abbastanza vicino, a 700 metri si percorrono in circa 10 minuti, leggermente meno, perché chiaramente non sono dritti, ma ci sono un po' di curve, a riportare uno stereo che... anzi, a portare, non a riportare, a portare uno stereo che... la palestra, gli insegnanti della palestra avevano bisogno, appunto, per fare un saggio la domenica. Stiamo parlando di venerdì, se non dico una stupidata, mi sembra essere venerdì. Cosa succede? Sono circa le 5, in teoria lo stereo è di Cheba, e quindi dovrebbe uscire Cheba, che è la sorella piccola di Yara. Però Yara è sorella grande, insiste, vuole uscire, riescono, anzi riesce a convincere la mamma, Yara, a uscire, e verso le 5.20 circa, esce dal casa, quindi esce da casa sua per l'ultima volta, e arriva in palestra verso le 5.30, quindi 5.20, 5.30, quei 10 minuti. Sappiamo che consegna il... come si può dire? Consegna lo stereo alla maestra e assiste alla lezione delle ragazzine più piccole. Quindi si ferma in palestra un'oretta circa, e assiste alla lezione, appunto, delle ragazze più piccole. Yara però aveva un accordo con la madre che le aveva detto puoi andare tu ma devi essere a casa entro una certa ora. Sulle ore se ne dette di tutti i colori. L'ipotesi più probabile, perché la madre non si ricordava esattamente l'ora a cui aveva detto, però dovrebbe essere intorno alle 7.00-10, quindi 18.50. L'ora è fondamentale, ok, adesso io vi dico tutti questi orari, perché sono fondamentali, sono presi dalla sentenza, quindi non li sto inventando, non li sto prendendo dai siti, li sto prendendo dalla sentenza. Yara verso le 6.30, è vista chiaramente da più persone, inizia a rivestirsi ed esce dalla palestra verso le 6.44, circa 6.40, 6.44, l'ultimo testimone che è un uomo, che è il padre di una ragazza che chiaramente stava facendo stava facendo lezione dentro la palestra, la vede il signor francese, la vede per l'ultima volta 6.42, 6.44, poi dipende anche dall'orologio, dipende da una serie di cose, comunque, in breve, adesso ve la faccio. esce dalla palestra velocemente, perché probabilmente era qualche minuto in ritardo per uscire da, appunto, per tornare a casa, esce da quella palestra e sparisce completamente nel nulla. I genitori iniziano a chiamarla, lei manda un messaggio a una sua amica alle 6.49, sappiamo che era in movimento, perché il suo cellulare si attacca a un'altra cella telefonica, poi bisognava fare un discorso molto complesso sulle celle telefoniche, perché parte della difesa di Bossetti sarà incentrata sulle celle telefoniche, così come gran parte dell'accusa sarà incentrata sulle celle telefoniche. Comunque, si attacca a una cella telefonica limitrofa, manda un messaggio a una sua amica, che poi le risponderà in seguito, da lì il suo cellulare non sarà più raggiungibile, nonostante i tentativi di chiamata della madre e di tutto quanto, la madre preoccupata che non torna a casa, inizia appunto a chiamarla, inizia a uscire, chiama il padre che a quel punto è tornato a casa, iniziano a cercarla finché sporgono denuncia alle, verso le 21, mi sembra, le 21-22, iniziano a, come si dice, iniziano a, sono andate le carabinieri che iniziano questa ricerca, ricerca che poi avete sentito per chi ha una certa età, è successo una decina di anni fa, una ricerca pazzesca, migliaia di uomini, centinaia di uomini, cani molecolari, che era l'indizio che avevo dato settimana scorsa, i cani molecolari sono fondamentali, poi vedremo perché, e non trovano niente. di Yara è sparita nel nulla. C'è una svolta nelle indagini i primi di dicembre, quindi una decina di giorni dopo, perché un muratore marocchino di nome Figri viene intercettato su un traghetto che lo sta riportando in Marocco e ha una prima traduzione e sembra che dica una frase del tipo alla perdonami non volevo ucciderla, non so perché l'ho uccisa, una roba così. Chiaramente Figri viene arrestato e interrogato. In realtà si scopre che non stava scappando verso il Marocco come sembrava, ma semplicemente aveva prenotato quella vacanza con mesi d'anticipo. la traduzione che lui, che il primo interprete aveva fatto era sbagliata, per te stava parlando con la sua ragazza di un'altra cosa e soprattutto aveva un alibi aveva un alibi appunto d'acciaio e che quindi non, come si dice, non poteva essere stato lui. Le ricerche quindi continuano, continuano in modo estenuante. L'unica traccia che su cui gli investigatori posso, l'unica traccia diciamo non neanche vera e propria però l'unico indizio perché la peculiarità di questo caso ed è uno dei motivi per cui poi è così famoso è così discusso è così dibattuto è che non ci sono tracce. Cioè Yara da quando esce da quella palestra da quel momento è scompare ma scompare letteralmente. Quindi gli investigatori che battono chiaramente tutte le tracce possibili provano a vedere legami con la famiglia se poteva avere qualche nemico eventuali predatori sessuali nella zona perché poi una cosa che non vi ho detto è che Yara scompare in una via che è super trafficata super trafficata cioè non è una via scompare nella via di fronte si suppone ovviamente scompare nella via di fronte alla palestra poi io se riuscirò a trovare il modo vi metterò qualche immagine magari le metterò nella descrizione e vi dirò di aprirla al momento giusto scompare dovrebbe essere scomparsa in una di due vie ma che sono super trafficate dove passano molte macchine e sfortunatamente quel giorno anzi quel periodo le telecamere della palestra non funzionavano erano fuori quindi Yara è scomparsa nel nulla l'unica traccia su cui un pochettino lavorano gli investigatori da un punto di vista pratico è data dai cani molecolari sono fatti arrivare mi pare tre o quattro cani o due comunque più di un cane molecolare dalla Svizzera e praticamente gli vengono forniti degli indumenti di Yara e questi cani puntano verso appunto una come si dice escono da un cancello sul retro ok nonostante sia inverosimile che Yara sia uscito da lì puntano dal cancello da dietro e fanno una strada che li porta che conduce gli inquirenti al cantiere di Mapello che è un cantiere gigantesco dove adesso c'è un centro commerciale enorme e puntano lì a quel punto oltretutto Mohammed Fikri quindi quel marocchino lavorava al cantiere di Mapello per quello poi sono e per quello il motivo che erano stati intercettati i muratori e si era ottenuta l'intercettazione di Fikri perché si era messo sotto controllo poi tutti molti molto del personale che lavorava in quel cantiere a quel punto il caso non dico che sembra risolto però quantomeno di trovare Yara viva o morta comunque di trovare il corpo il il cantiere di Mapello viene chiaramente guardato ripassato decine 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 di volte non viene trovato niente per altri due mesi non si ha nessuna traccia Yara si è volatilizzata si pensa di tutto adesso io poi di quei mesi in cui è scomparsa non c'è scritto nelle sentenze ma anche nei vari documenti perché poi c'è talmente tanto materiale dopo che non ci si è concentrato in quei tre mesi ma in quei tre mesi praticamente non c'è materiale non si sa niente il PM Letizia Ruggeri voi immaginate l'affessione di un paese piccolino dove scompare una ragazza una ragazza che è un po' l'emblema dell'innocenza a 13 anni all'apparecchio a un diario che fortunatamente non è mai uscito come per esempio è uscito il diario di Amanda Knox però è una ragazza innocente una ragazza che non ha scheletto nell'armadio una ragazza solare innamorata della vita che viene che scompare nel nulla chiaramente si pensa quasi subito a un predatore sessuale o comunque a un rapitore al cosiddetto uomo nero ma non si ha nessuna traccia in tutto ciò è partita una caccia come si dice una ricerca imponente per tutta la valle bergamasca quindi cercano a decine e decine di chilometri senza ottenere risultati a questo punto succede una cosa è il 26 febbraio 2011 e quindi tre mesi esatti esatti quindi 26 novembre e 26 febbraio 26 novembre e 26 febbraio ripetiamo 26 febbraio 2011 un aereo modellista quindi un signore che aveva un paio di modellini del appunto che li fa volare va in questo campo a far volare i suoi modellini un modellino perde il controllo di un modellino un modellino inizia a scodare in aria e cade è sera tardi o comunque è buio poi immaginate che a Bergamo durante più o meno il periodo invernale non è che faccia cioè alle 4 a pomeriggio 4 e mezza c'è buio quindi fa in fretta comunque perde il controllo e si va a introfolare nei rovi di questo campo un campo cerocanato da fabbriche quindi siamo in una zona industriale a chignolo d'isola a 10 km in linea d'aria anche meno dalla palestra di Vrembate quindi lui è in questo campo abbastanza grosso ma non è un campo gigantesco ed è un campo su cui poi parleremo moltissimo perché poi adesso vi dico uno dei tanti particolari di questa vicenda quindi va a recuperare il suo aereo sente un odore strano nota qualcosa nella sterpaglia si avvicina vede un cadavere e si allontana subito fa qualche passo indietro chiama subito la polizia dicendo di trovare di aver trovato appunto un cadavere decomposto comunque con dei segni che era lì da molto tempo e sembra di una ragazza la polizia chiaramente immagina possa essere di Yara non la conferma e dice all'aereo modellista resti lì cioè non se ne vada cosa succede? succede che l'aereo modellista è molto spaventato e anche un pochettino disturbato dalla vista di questo cadavere e fa qualche passo indietro e facendo qualche passo indietro poi perde di vista per un attimo il cadavere a quel punto lui ha paura di non trovarlo più e di poi arriva la polizia e dice questo è tutto scemo la polizia arriva ritrovano il cadavere chiaramente l'aereo modellista viene allontanato arrivano medico legale la professoressa Cattaneo che è il medico legale e tutto quanto è Yara Gambiras quindi tre mesi dopo esattamente tre mesi dopo Yara Gambiras viene provata a dieci chilometri da dove è sparita uccisa o meglio no uccisa no perché poi come si dice l'autopsia rivelerà un'altra cosa ovvero rivelerà che non ha avuto ferite mortali ha una serie di ferite ha una ferita dietro la nuca che probabilmente ha causato uno svenimento non si sa se è uno svenimento molto profondo o uno svenimento più leggero ha dei tagli sulla schiena ha un taglio sulla gola ma ripeto nessuna ferita è mortale e ha delle ferite tafonomiche qualcuno mi correga se sbaglio su tutto il corpo cioè gli animali nel tempo hanno mangiucchiato delle parti ma una cosa fondamentale che dirò in tutte le puntate non ha segni di violenza sessuale l'imena intatto non ci sono tagli non ci sono lividi non ci sono graffi non c'è niente non è stata minimamente toccata quindi non ci sono segni di violenza sessuale su Yara Gambirasio chiaramente viene celebrato un funerale viene trovato un DNA il cosiddetto DNA di ignoto 1 sullo slip sulla mutandina tagliata che usciva dal cadavere scusate che usciva dai pantaloni che era in bella vista viene ritrovato questo DNA su cui poi dovremmo fare una puntata a cui parteciperà Zap che mi darà una mano a decifrare quel DNA viene appunto trovato questo DNA che è un DNA di ignoto 1 siccome il DNA di ignoto 1 si trova sulle mutandine la polizia stabilisce che quello è il DNA dell'assassino ok a quel punto parte la più grande caccia all'uomo della storia della Repubblica Italiana vengono effettuati circa 20.000 prelievi di DNA in tutta la valle finché a praticamente a 350 400 metri da dove hanno trovato il corpo c'è una discoteca quindi per settimane gli inquirenti hanno fatto il tampone a tutti quelli che entravano in discoteca ovviamente tampone volontario non obbligavano nessuno un tampone volontario finché trovano un ragazzo che è come si dice con un DNA molto 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 simile a quello di ignoto 1 ma non uguale e oltretutto questo ragazzo questo ragazzo nel periodo in cui Yara era stato ucciso era in Sud America a quel punto fanno l'esame alla sua famiglia e scoprono che il padre di ignoto 1 quindi secondo l'accusa dell'omicidio dell'omicida di Yara Gambirasio è un uomo che si chiama Giuseppe Guerinoni Giuseppe Guerinoni che è un autista di autobus di Gorno che è un paese in montagna deceduto nel 1999 qual è il problema? che tutti i figli di Giuseppe Guerinoni a cui viene fatto l'esame del DNA il DNA non corrisponde perfettamente con quello di ignoto 1 a quel punto la procura immagina che l'assassino di Yara Gambirasio quindi il proprietario del DNA di ignoto 1 sia un figlio illegittimo di Guerinoni vanno avanti con le indagini vanno avanti con le indagini e salta fuori il nome di Esther Arzuffi madre di Massimo Giuseppe Bossetti Esther Arzuffi ha vissuto a Gorno per un periodo della sua vita ma e qua inizia uno dei primi mille misteri di questa vicenda lei ha sempre negato di aver avuto una storia con Giuseppe Guerinoni di questa storia non ci sono delle prove tangibili c'è la prova del DNA fatto sta che quindi diamo per scontato che poi ne discuteremo adesso per spiegare velocemente la vicenda poi ogni punto ovviamente dovrà essere analizzato per cercare di capirci qualcosa quindi Esther Arzuffi ha una relazione con Giuseppe Guerinoni poi lei si trasferisce appunto a Brembate col marito da cui avrà poi anzi poi per trovare due gemelli un maschio e una femmina uno appunto è Massimo Giuseppe Bossetti che chiameremo che chiameremo Bossetti perché il suo nome ufficiale Bossetti non è Guerinoni essendo più illegittimo e quindi quattro anni dopo la scoperta del corpo quindi nel 2014 Massimo Bossetti viene arrestato come viene arrestato viene praticamente viene fatto un alcol test fuori dal Carrefour mi sembra comunque fuori da un centro commerciale viene fatto un alcol test fittizio viene prelevato il DNA il DNA coincide e viene arrestato tra l'altro in televisione c'è il video su YouTube del suo arresto dove dicono che lui scappa lui in realtà non sembra scappare comunque viene arrestato e succede una cosa strana il video del suo arresto non ho molto da dire sul video del suo arresto nel senso che lo potete vedere voi stessi ma succede una cosa secondo me una delle cose più gravi di questo processo io non sono né culpevolista né innocentista non lo so se è stato lui o non è stato lui non me ne frega niente faremo tutte le le nostre ricostruzioni faremo ricostruzioni dove è stato lui faremo ricostruzioni dove lui è innocente questo non me ne frega niente però se c'è una cosa che non si può dire che sia grave è che il ministro dell'interno Angelino Alfano quando lui viene arrestato twitta abbiamo trovato l'assassino abbiamo arrestato l'assassino di Nera Gambiavasi ora in un paese democratico moderno e civile come il nostro ma come qualsiasi paese occidentale un ministro non può dire abbiamo arresto twitter abbiamo arrestato un omicidio senza che neanche ci sia stato un inizio di processo lo puoi dire al massimo dopo il primo grado sarebbe meglio aspettare il terzo grado di giudizio invece dopo solo un arresto dice abbiamo trovato l'assassino di Nera Gambiavasi questa è una cosa ci tengo a dire perché secondo me è una cosa molto molto grave da lì in poi ci saranno appunto tre gradi di giudizio in cui Massimo Bossetti verrà condannato per tre volte cioè la condanna verrà confermata per tre volte quindi ergastolo lui si proclamerà sempre innocente i suoi avvocati ancora adesso stanno appunto dicono che è innocente e e niente quindi questa è la vicenda a grandissime linee ora perché scelgo questa storia sì è il caso più chiacchierato del web sicuramente è il caso in cui ci sono una marea di innocentisti assolutamente sì è il caso con meno prove di tutte nel senso che le prove proprio le prove non gli indizi poi parliamo anche degli indizi ma le prove sono una ed è il DNA che io ricordi non mi viene in mente un caso dove c'è una sola prova e con prova intendo non c'è movente non c'è ricostruzione non c'è arma del delitto non c'è neanche una timeline precisa ci sono degli indizi talmente generici che poi li vediamo questo non sto dicendo che sia innocente o colpevole io sto parlando degli indizi a disposizione degli inquirenti lasciando perdere bossetti per un attimo ma gli indizi sono così pochi e sono così interpretabili che non ho ricordi di un caso così ok in più è il caso che è costato di più della strada della repubblica ho letto di tutto ho letto 3 milioni di euro per tutti i tamponi ho letto 12 milioni di euro ho letto 20 milioni di euro ho letto di tutti sappiamo che siamo nell'ordine dei milioni di euro perché tutti i tamponi tutto il personale tutto il team che ha lavorato è costato un milione di euro questo non vuol dire nulla in Italia esiste l'obbligo di utilizzare tutti i mezzi disponibili per trovare il colpevole così come non esiste invece l'obbligo di trovare il colpevole bisogna fare tutto il possibile ma non è necessario invece trovare il colpevole ok però i maligni dicono che questa pressione tutti questi soldi spesi ha messo pressione alla procura di Bergano appunto trovare un colpevole ma un colpevole viene trovato viene condannato e noi ci rifacciamo la sentenza voglio citare un'altra cosa che appunto poi spiegheremo meglio nelle prossime puntate io mi verifaccio a tre cose la sentenza che è fondamentale quindi quando parleremo delle ricerche pornografiche sul computer delle celle telefoniche del campo di chignalo di isola del dna di tutto quello io mi rifaccio la sentenza poi sono andato a leggere persone che commentano la sentenza persone che dicono è stato sicuramente bossetti perché non ci sono motivi per spiegare il suo dna lì ok persone che dicono no non è stato bossetti perché il dna può essere stato contaminato non è il suo manca il mitocondriale quello che volete ok io poi ho letto tutte queste cose quando io voglio essere cercare di essere il più in parziale possibile quindi vi dirò allora questa cosa che vi dico fa parte di una tesi innocentista questa cosa che vi dico fa parte di una tesi colpevolista quando invece non dico niente è perché mi rifaccio la sentenza quindi se mi dite non sono d'accordo con questa cosa io vi dico quello che vi ho portato in sentenza se voi non siete d'accordo con la sentenza è il vostro diritto però io non ci posso fare niente qui non voglio dire non è stato bossetti sono stati poteri forti che hanno tagliato Iara Gambirasio ve l'ho detto nell'altra puntata che avevo letto in un forum di pazzi scatenati come me che c'erano due lettere dell'alfabeto Fenicio sulla schiena di Iara Gambirasio ora possiamo credere anche a quello ma va bene ci lanceremo quindi in una prima parte di puntata in cui analizzeremo le prove contro bossetti chiaramente ma in realtà le prove esistenti e poi una volta terminate le prove inizieremo con le ricostruzioni le ricostruzioni vi anticipo che saranno diverse e ci saranno sempre colpevoli diversi ci sarà chiaramente la ricostruzione con bossetti colpevole ci sarà la ricostruzione con altre persone legate alla palestra colpevoli ci sarà la ricostruzione con persone legate ad altri ambiti colpevoli ok ci sono tutta una serie di ricostruzioni che sono state fatte che io vi propongo dove cerchiamo di analizzare vi anticipo un'altra cosa nella sentenza non c'è una ricostruzione ovvero e questa è un'altra cosa che a me piace cioè per uno dei motivi per cui ho scelto questo caso perché nella sentenza la sentenza dice non sappiamo nonostante appunto Bossetti sia condannato per cosa ve lo anticipo brevemente per aver caricato sul suo forgone bianco Yara Gambirasio in qualche modo averla portata a Chignolo d'Isola aver tentato uno stupro che chiaramente non è avvenuto ma neanche pagamente intanto mentre tentava uno stupro l'ha tagliuzzata ferita ma ripeto sempre in modo non mortale a quel punto lui o lei scappa dal forgone e lui non la rincorre oppure lui la lascia andare oppure lei scappa lui la rincorre ma la perde di vista e torna al forgone comunque non si sa cioè così come non si sa se cioè non si è capito non si riesce a ricostruire come lei si è salita sul forgone non si riesce neanche a capire in che condizioni lei esca dal forgone quello che sembra verosimile è che lei appunto in qualche modo scappa da questo forgone corre per questo campo però ricordiamo è ferita quindi ha un colpo dietro la nuca ha dei tagli nel corpo quindi sta sanguinando evidentemente cade non ha la forza di rialzarsi e poi muore sostanzialmente di stenti di freddo perché è vero che in quel periodo c'erano circa 8-9 gradi la sera 7 gradi la sera però quando sei gravemente ferito rischi comunque l'ipotermia quiz up dim conferrami se sto dicendo qualcosa di sensato è scritto comunque in sentenza quindi se sto dicendo una stupidata io poi vi riporto il passo della sentenza cioè che le ferite che non sono mortali ma che comunque sono ferite importanti aumentano l'efficacia del freddo sul corpo e quindi appunto questo è uno di quei casi in cui ci sono pochissimi testimoni nonostante siano state sentite centinaia di persone centinaia di persone ognuno diceva qualcosa ma di testimoni che hanno visto qualcosa di grosso la ciccia come diciamo cioè va bene la fuffa ma noi ci piace la ciccia che abbiamo visto Bossetti che la prende Bossetti che la invita in macchina a lei che sale in macchina non ce n'è di lui che non ci sono testimoni e quindi la ricostruzione non c'è un movente perché c'è un tentato stupro può essere quello il tentato stupro però allo stesso tempo non c'è un alibi per Bossetti però anche lì poi vedremo cosa vuol dire che non c'è un alibi per Bossetti e chiaramente non c'è un'arma del delitto ma perché il coltello o il taglierino si è ipotizzato siccome Bossetti non aveva non aveva con sé coltelli non aveva una persona che aveva coltelli ma essendo un muratore aveva con sé un taglierino chiaramente il taglierino che hanno analizzato è risultato negativo ma sono passati quattro anni quindi è verosimile che l'abbia cambiato non c'è l'arma del delitto non c'è un movente non c'è una ricostruzione e quindi questo è come si può dire il massimo per dipend crimini chiaramente rispettando la tragedia però noi vogliamo andare a vedere la ricostruzione io non voglio fare il processo a Bossetti ok questo ci tengo a dire io non sono il difensore di Bossetti non sono l'accusatore di Bossetti a me di Bossetti io non lo conosco non me ne frega niente di Bossetti Bossetti è in prigione si fa l'ergastolo che io dica che è stato lui che io dica che non è stato lui che io dica che è stato lui o forse no se lo fa lo stesso quindi non mi interessa a me interessa fare più ricostruzioni possibili analizzando le prove guardando le prove che sono scritte nella sentenza non che mi invento io ok vedendo cosa è successo vedendo le varie testimonianze che sono magari contraddittorie ma magari qualcuna ha sempre qualcosa di vero e a quel punto possiamo far poi una ricostruzione finale come abbiamo fatto con Meredith Kerscher per capire cosa possa essere successo ok se avete domande chiaramente potete farmele in chat se conoscete il caso se avete già qualche teoria quindi questo è a grandi linee il caso di Iara Gambirasio devo dire che ah no ecco cosa non vi ho detto più ma vi dicevo una roba sul 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 campo di Chignolo d'Isola poi non ve l'ho detto una cosa interessante di quel campo dove viene trovata la Chignolo d'Isola è che un mese prima del ritrovamento di Iara Gambirasio siamo all'intorno al 20 gennaio del 2011 a 200 metri 250 metri dal corpo di Iara viene trovato un altro cadavere viene trovato un cadavere di Eddie Castillo che è un adolescente un ragazzo che è stato vittima di una rissa fuori dalla discoteca e incredibilmente non viene trovato il cadavere di Iara questo insieme ad alcuni video che poi vi linkerò nella descrizione ha dato modo di pensare che il cadavere di Iara non sia rimasto lì per tre mesi come invece sostiene l'accusa e sostiene l'accusa non a caso cioè ha degli elementi per sostenere questa teoria così come ci sono degli elementi che chiaramente la difesa ha portato avanti che fanno immaginare che il corpo non sia rimasto lì per tre mesi ma per circa un mese o un mese e mezzo la cosa che mi ha colpito leggendo la sentenza è che la cosa che mi ha colpito leggendo la sentenza è che tutte le obiezioni tirate su dalla difesa sono state cassate tutte di solito se leggete la sentenza ci sono delle parti in cui dice la difesa sostiene e chiede effettivamente può invece qua tutte vengono cassate è vero che se voi andate a vedere un documentario che vi consiglio ignoto 1 su sky è un documentario secondo me per avere esatto quindi zap dice comunque si delle ferite possono sicuramente indibilitare il corpo di un soggetto e renderlo più suscettibile ad ipotermia esattamente quello che scrivono in dieci pagine i giudici se voi andate a vedere il documentario appunto ignoto 1 su sky ma lo trovate anche in streaming anche se io non ve l'ho detto c'è tutta la caccia l'uomo lunghissima molto molto interessante però perché è stata la prima volta credo al mondo in cui c'è stata una caccia così grande con tamponi davvero a migliaia e migliaia di persone ricostruzione dell'albergine c'è un casino pazzesco quando trovano bossetti l'apm dice non possiamo andare in tribunale solo col dna perché si rendono conto di questo problema che non possono andare in tribunale solo col dna sul dna e con questo chiudo oggi faremo una puntata a parte perché è l'argomento fondamentale di questo caso si scontrano una serie di come si può dire modi di vedere il dna il dna cos'è? è una prova? è un indizio io sono convinto ma non su questo caso in tutti i casi che il dna sia una prova e non sia un indizio ma così come tutte le prove l'autopsia ha confermato la morte per ipotermia sì 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 chiede zap sì sì allora sicuramente nessuna delle ferite che ha avuto è mortale poi è chiaro che non si può mai essersi cura al 100% io poi se vuoi ti faccio leggere proprio i pezzi della dell'autopsia della sì della oddio della sentenza dove ne parlano perché è all'inizio e di certo nessuna ferita era mortale per tornare al dna io sono convinto che sia una prova ma come ogni prova deve avere una coerenza con quello che viene ritrovato cioè il dna di bossetti deve essere contestualizzato secondo me la procura ha fatto non male ma non ha fatto una contestualizzazione del dna perfetta che sia suo che non sia suo e appunto ne parleremo che sia suo che non sia suo ci sono delle incongruità delle cose che non funzionano secondo me nella ricostruzione è per quello che io devo pensare da tra virgolette appassionato a un bossetti colpevole ma a una ricostruzione diversa perché non è possibile che lei che non lo non lo conosceva perché questo lo sappiamo di sicuro che non si conoscevano lei salga sul porgone quando abita a 500 metri da casa ok perché poi si è ipotizzato di tutto erano fidanzati si conoscevano non è vero non è vero ok quindi è un caso complessissimo sarà forse addirittura più lungo di Meredith Kercher in termini di puntate perché c'è da dire ci sarebbe da fare una puntata su ogni elemento da quanto è complessa cercherò di renderlo il più commestibile possibile senza chiaramente sacrificare la profondità di analisi mi piacerebbe tantissimo avere da parte vostra un feedback continuo sui nostri canali social perché poi è fondamentale avere tutte le opinioni possibili ma soprattutto è fondamentale che voi partecipiate in modo che io riesca poi a ricalibrare tutte le volte la mia percezione di quello che sta avvenendo oggi chiudo un paio di minuti prima tanto abbiamo tempo e modo di rifarci da domani domani potrei fare la live un po' più tardi perché ho un impegno nel pomeriggio tardo quindi poi vi faccio sapere quindi un motivo in più per seguirci sui social con questo vi auguro una buona serata spero di avervi un po' incuriosito questo era l'obiettivo di questa puntata spero di avervi un po' incuriosito e ci vediamo domani un saluto a tutti